Dimmi, sono sempre schiava? No, non ce l'ho Fra, non ce l'ho Ah, va bene Quindi se non ti risponderò vorrà dire che non ti ho sentito Ok Dobbiamo fare cosa? Creiamo un altro test e sei tu il proprietario Bene E che dobbiamo fare? Dobbiamo creare? Se creo io Tu vuoi Vieni, diciamo Vabbè, sì, certo Anzi, quando hai finito, dai Me lo dici Eh, ho francese Devi andare in Devi andare in un posto dove stanno i player Molti player Ok Intravedo delle mele Con la mia vista forforante Ok, 125 di vita Prendolo sei ieri o ieri sera ho visto una prostituta fuori casa mia Io so quanto l'ho visto Oh, bene Io mi si riservi, se l'ho visto una prostituta fuori casa mia Bello No, nel senso che io nel tempo Ho detto, ma passo sempre da una fissa Quando vado al roma freno Ho fatto sempre da una via In cui ci siamo tipo 5 o 6 L'ha mai caricata una Oh, che cosa? No, niente No, ho visto che un signore Una te la prendeva e basta Cioè, la missella che ti faceva No, no, nel senso Un signore Si è fermato con la macchina E l'è salita Quindi io penso che sì No, no, nel senso Oh, sei una live però, eh Cioè, due like, una pezzola Eh, non so, stiamo parlando di una cosa di attualità Non so, per mandare la live sul coppito No, 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 nel senso E data, data, data Poi, magari ci facciamo Pertidio, così Cioè, ragazzi Cioè, ragazzi Cioè, ragazzi, abbiamo una cosa di attualità, eh Si, va bene, tutto Sì, va bene, tutto Sì, va bene, tutto Finita, l'è, l'è, l'è No, ok Oh, ragazzi Sì, va bene, l'è, l'è, l'è Sembrutto Sembrutto Bimbo Cattiva Cenerone E muori Ah, mamma mia, ragazzi Sì, è che è la terza guerra mondiale Sì, è che è la terza guerra mondiale Sì, è che è la terza guerra mondiale Sì, è che è Sì, è che è Dai, quanti ne si vede, che è Giusto per capire Siamo a 21,4 kg E 27 kg dei mostri Ok, lo faccio, qui, no, ok Dai, ragazzi Sì, raggiungiamo 15 Anzi, 25 Anzi, 30 Io sto fino a te no, ragazzi 30 spettatori E 15 like Bishop o no O visita di ghiaccio Penso, vero, più omen Sì, omen Sì, omen Mamma mia Non sei ancora morta, Lele E la sei ancora live, questo Io sto live Faro 45 kg di sti mostri Yeah, yeah che l'altra volta mutato quando è finito basta siamo uno spettatore esci dicendo andare che ne so e poi invitavi e di guardia allora questo punto me lo vado pure lo vi credo si infatti però va bene la facciamo non faccio giochiamo con lui e io facciamo un attimo le doppie rovo perché no fra mi servono colpere non ce l'ho allora comunque non è non è che ero in entri e brutto vedete il maio hanno migliorato la modalità cecchini non ci salta tanto finalmente ok ha scelto di vita che bello stavola così ora si può definire una modalità a so fa poi perlomeno però 68 mil dei mostri 68 kg amico di lei notte da che si con giochi 25 che ragazzo con la prima ferita molto drottico via 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 attento quello che ho fatto nooo cavolo io eri che fa trovate il salto per uccidere sti mostri facciamoci una bella coppia la vinciamo sicuro diciamo che c'è una coppia a moglie no c'è cosa faccio mettiamo a piena vento molaria e benvenire questa fa trovate ti ho? come le fanno? e guarda che ci vuole in un chat mamma mia che situazione di schifo 0 colpi assalto dove c'è me la gioco con la mitraglietta che ho pure 500 colpi e no fra dato che la vita la uso adesso come pompa la dice come assalto la dobbiamo mettere per prima ok così ma vera possibile ma non troppo possibile facciamo così come un'altra finestra così e la guardiamo un pochino ok lele lele ma si morirà ah no l'importante è che mi senti ma vabbè mariano porco dius perchè fanno che fanno la caduta perchè fanno morire di caduta perchè fanno morire di caduta le persone perchè perchè non si è morto dai che botto che botto che bo no è impossibile lei è morto 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 devo andare in bagno di là pochino lleva questo che sarà un troppo caso di da tocca 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 se vuoi che giochiamo che abbandonati c'è un belissimo tutto se vuoi che abbandono devo fare coppia no tenato ma è mutato a batfran no ho detto se vuoi che abbandono cosa abbandoni che tu non sei morto si trova se vuoi che abbandoni che abbandono io faccio la coppia ma aspettare non ha capito un cazzo se vuoi che io abbandono la parte ma no 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 Lele 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 Guarda, è arrivare morto Lele, senti una cosa Amico, il gruppo... Dobbiamo fare coppia però Lele Non posso fare creativo Le altre retinate Facciamo scuola Eh dai no E' un hub questo Le vinciamo le coppie Che è già contentare Le facciamo le coppie Allora C'è Fran C'è Renato che vuole fare le coppie E che vuole fare creativa Dove spendo Artellino rosso Fuori E' pure Per Renato però lui già c'è Batto fra Zadabia da via sta giocando quindi muoveremo Un altro po' Facciamo le squadre a raga Facciamo le squadre Che padre Non è navissimo Non è navissimo Non è navissimo Renato Perché allora sta creativa Che è quella cosa? E' le motte di Le degli altri E' nata mi sping Nooo Deve te le scorde Devele Ah ok ciò No Perché no Perché non vuoi fare una cosa Perché è Renato Non vuoi fare mai quello che vi voglio Aspetta che Posso giocare? Sabine Ceci Non so chi sei Sabine Ceci Eh No Sabine 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 Non Sabrina Se vuoi giocando Se vuoi giocare Iscrivervi come ti chiamami Immaginame la richiesta Dici che sei Sabine Ceci selber Iscriviti al canale Se non ti ho maletto Quindi si può giocare Ragazzi Se vuoi giocare Ragazzi Ragazzi veramente Da vado negli altri parti Allora Ho un momento Qua qualcun'altra Da questo e non vogliamo fare con i miei squadre con francia e gioco giocherò molto soft c'era non giocherò benissimo perché gioco contatti quindi la voglia di colano la coppia è nato perché dobbiamo fare i coppi si sta scuola e scuola quante volte dovete che dove spalle i miei amici e l'ho fatto abbia comunque non fai anche scuola allora ciao le altre parti ragazzi mi chiamo bombermano10 ti mando una amicizia ok bombermano10 iscriviti al canale bombermano10 e faccio una sigla ok stiamo tra cosa mi raccomando ragazzi lo so scrivere ecco il c'ho il c'ho la nata scusate un attimo sull'idea altri parti andiamo anche in altri parti andiamo in questo no andiamo in questo ma io gioco verso le 8 e mezza eh 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 ti voglio dire sa si vuoi venire su fortnet che scrivi che tu non mi ha mai quindi devo uscire pure da questa parte è già la terza parte per quanto no no che te lo devi uscire se vuoi rimani però eh beh però no vabbè come uscire pure da questo tu ci sei? io ci sono sabine ti iscrivete se vedo ti iscritto mi arriva la notifica vabbè se vedo ti sei iscritto gioco con i fan non è che gioco con nulla che c'è tutto dicendo vuoi giocare con me ma ti iscrivi sì a vedere l'acqua a me che andava a parte di lei mi butto subito ci sono questa rotta meglio spero eh comunque se no mandi comunque la ripresa mi ricordo sabine e mami che scusa bomba e mami no 10 mi ricordo ok lo manco c'è sabine e scrivete quando armano scrivete ora c'è oggi trovata questa mattina cosa non so niente il pupaccio di neve ce lo so però non lo so non l'ho visto che c'erano solo azione del nuovo vabbè troviamo ecco non è un altro asciugato al tanto ragazzi è vero dopo vado a fare il double pump inscrittiva se poi scusciato non scrive sotto nei commenti che le scocciano di vederti che tu mi scoccio di giovancia di vedere a te lo stai giocando i casi va io capisco e non fa niente cioè vabbè gioco al single scopo scopo si vede non è una ricorsa forse non mi scusa devo conquistare quel lancio ragazzi ragazzi assolutamente devo capire questo cretino dove vuole arrivare devo conquistare il cavolo ti lancerà ragazzi vorrei per ingannare faccio questa questa ragazzi perché non fa biglare a un certo punto ragazzi però il dopo avessi con il meteo scritto niente abbia quanto vuol scritto vabbè qua nel nascosto segretini di schifo quindi vabbè io mi vorrei provare il double plan se voglio quanto quanto è strano quanto no che facciamo così andiamo in creativo andiamo a farci veramente le armi siamo due spettatori ragazzi iscrivete se vi scocciate che io vado in creativo a provarmi nel double pump e vedere se ci troviamo si chiama il fucazzo di neve ve lo dite e io non lo faccio scusate un attimo ora intanto se volete scrivermi così in chat e lo vado a like tanto a tutti allora che bene ora funziona che vi do scoprire quali partecipanti ci stanno allora così ok così partecipanti ecco qua ok vi riesco a vedere ragazzi oh è me cilice 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 tanti o mesi dito ah c'è tanti c'è tanti iscritti veramente non c'è sempre sì mamma c'è un'ora no no tutta l'ora com'è dicio alle nove ah perché non c'è più il pollo è la pizza guarda ragazzi no ragazzi non so se c'è riuscire allora accettando i ditti vedi le vengono si vengono a scena allora quindi qua si può distruggere facciamo facciamo così facciamo così facciamo un attimo un dubbio no ragazzi è molto difficile vabbè difficilissimo difficilissimo allora allora pah no non riesco a fare raga è difficilissimo tipo troppo sentite no questo se ne va col paese allora è onestamente io prendo pompa del mondo ora che si dice che è più facile ogni pompa del nonno ok beh ragazzi è praticamente impossibile se capite quindi abbandoniamo ragazzi se io non mi aspetta un attimo un attimo un attimo grazie mi muterò un attimo però vi ascolto non ti preoccupare solo non ti preoccupare a chi non mi aspetta non ti preoccupare di tutto non ti preoccupare Grazie a tutti. 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 Ok, bombermano solo 10, ti ho trovato, penso che sei solo 10, ci ho trovato così qua, aggiunge amico. Pure richiesto amico fidato, facciamo, anzi no, vabbè, sì sì va bene, va bene ragazzi, te l'ho mandato. Spero di averte la mandato, ripeto, spero di averte la mandata. Si arriva una cosa fatica, ok ragazzi quello c'è la nuova pistola, quindi dovrebbe essere avvantaggiatissimo, non solo dopo la nuova pistola ovviamente, ok ragazzi quindi buttiamo pure questo, e mi rendo questa, cioè buttiamo un altro di questi. Ok. 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 cavolo non riuscivo a bildare ancora questa cosa non mi trovi ti ho mandato io la dichiesta se tu non me la accetti è un bel bel se vedete che non pubblico video e perché studio oggi meno male non riusciamo alla gita quindi meno male non c'erano moltissimi compiti quindi sono riuscito bene o male comunque sto in un po' meno con l'altra cosa se raggiungiamo non penso proprio i 30 spettatori e 25 15 mi piace io so però lo faccio sempre non succederà mai però ci provo papara 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 di papara mamma che ragazzo io cava 60 60 c'è anche molto ma ho portato lo che fare questa perfile ma non è vero però è meglio che poi ti provino al gioco attendo un attimo qua euro non è vero non è vero non è vero ma non è vero quantia ok ok scusa sto facendo attimo non ho mandato a sito e ho mandato se c'è il bombe ma un bomberman tutto attaccato con 10 sempre attaccato c'è il fondo che è una crea fin da l'amore fa la vittoria reale con un dorso non mi vede tipo mantello non mi ricordo bene quello che si sei tu se poi io non sei tu non sei tu perché a me lo ai buttato in acqua adesso subito alla non ho fatto non mi venne a c'è la giunta non mi lo faccio l'amore che da fuori non si prende l'arma non si cerca di uccidere il nemico te l'hanno insegnato a casa tua mentre l'hanno insegnato forse mi dispiace l'insegnato diventavo amici mentre l'hanno insegnato purtroppo le persone cattive si meritano questo sei una persona brava allora sei stata volevi pregarmi volevi pensare di farcela non ce l'hai fatto vero se si meritava qualcosa questo è scemo a trovare me lo faccio rompere da tempo bravo le dovete ecc ripare canolo cavano dovete che ripare les che è il prodotto a io sono il prodotto la sito che è un prodotto la sito c'era un medico c'era un cavolo di medico voglio mi serve devo avere ok ma non so combinato la cosa combinato facciate che poi dovete creare ok non so che ci possa mai essere la mia linea questo dovete che fare e deve andare indietro con la live dovete mettere di strada se avete un iphone anche da gioco sul samson che dovete clipparla mandarmela su instagram che mi chiamo ben nato gamer ottima basso ottima basso 07 stesso sfondo di youtube o se non scorrete nei miei video un po' di tempo fa nel senso tempo ho pubblicato un video tipo di tre secondi in cui faccio vedere cavolo sono scemo bello non mi riconosciuto sì sì c'è pure scemo raga c'era la scemo trovare un bella paretta l'acqua così così ricaricando il pompa non c'ho colpito di 3 ma non la ricarico fino a 26 caricate che si fa tutto di più non ci si non è stato per quante che l'ho fatto come lo fa cavolo questo era forte ragazzi questo era un cavolo di pro questa è abbastanza forte bella cioè bella è bella per essere bella sentando un attimo i miei amici del party invitiamo lui solo dai siamo fai mi faccio non mi faccia di faccio faccio un altro figlio o meglio ciao o meno siamo dei vieni qua che ti faccio il double pump e ti do il sciaccia un cari tiro siamo per i pro alle tue spalle bella no colla di gol ben ben di sciato ed è sciato quindi devi stare a bambam bambam ok ok chi vuole giocare con me non vuole il gioco vedi i partecipanti facciamo così facciamo così no 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 se io voglio vedere gli like però questo a stesso tempo facciamo una cosa del genere no lo andiamo ok così la spostiamo un attimo la rimpiccioliamo ancora per impicciolita e che non mi aveva tantissimi ci riusciamo a scendere a tavola ok allora si ci vuole stare così partecipanti se due partecipanti uno spettatore vuole un po' un po' dura ragazzi no non so che due comunque bubba 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 che non penso a nessun nemico senza il mio apriamo con la porta siamo ovviamente insomma sfortunati noi e ci trovo il tempo ci può provare oppure uccidere sempre effettivamente provare no? effettivamente ucciderci allora allora non ho sicuramente non mi avete visto l'ultima volta che ho spiato però sicuramente era un mobile tipo ero una persona però era un mobile ok non c'è neanche un po' un po' va bene proprio questo due guarda ma perché c'era tutta il messaggio in un certo punto persone si andavano dall'altra parte di Pindapoli c'è solo a me che c'erano delle scifazioni c'era una volta un po c'è l'ultimo cosa che aveva uno con lo scopo ovviamente ronso se non cosa più lo giro del pieni o che vuoi un'altra cosa l'oggi oggi oh qua c'è una bellissima notte lì io cos'ho non voglio perdere mi piace l'ottimo consiglio al volo che c'era qua pure più un valido cavolo cavolo scappa scappa faccio in modo per seminarli in modo per seminarli in modo per seminarli così così faccio il player tanti milioni di anni fa faccio un player sicuramente sì perché non volevo c'era però volevo però non volevo grazie zombetti ok ragazzi faccio così questa volta mi apre pure la scelta scusate per mancare no ti va regalo il gioco e lo mangio e voglio mangiungiamo no bu e bu questo Questa ora muore? Se non io so cosa mi ha scappato malissimo Me l'ha mandato malamente Posta guardi dentro tipo Sarà morto in quel caso Eh ma è uno ce l'ho lanciato a razzi mi sa No è un'altra partita buono non so Beh quindi hanno conquistato Pinacolo nel mondo Uno e l'altro l'abbiamo conquistato Qua è diciamo quasi sempre quando dico questa frase All'improvviso escono Più player da lontano che mi uccidono Mi corrego non quasi sempre Ecco io sui player che mi uccidono tipo Sire 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 Ah ora cosa devo lasciare Ma te lascio il panzone Ma te lascio il panzone Mi sono oggi i brutti Ah ah quindi quelli non i brutti ti piaccio Nooo C'è quello si ferma dopo il pulmo ecco Ora qua si ferma Non scendere Non scendere Tattua di vita Poi via 91 Ok c'è gente che fai da oltre i mob E' il mondo Lo schiere Il ghiaccio Più peraltro I muschi Sono più generale Dove andare da lì Dove andare da lì No Dove andare da lì No Oh bello Il problema è questo qua che ce l'aveva ferito Che era abbastanza forte Eh appunto Ho detto bene Era abbastanza forte ragazzi E' veramente bene Era abbastanza forte Prima Un po' di tempo fa Quando esisteva ancora Vedete no? Era tanto forte Ho usato il termine Senza volerlo Ho usato il termine appropriatissimo Era abbastanza forte Ok ma un altro l'ho chiuso in modo L'ho caduto Sì Per me non cade Vendere dai bruti Beh che a me ora mi servono pure le grigli Quindi Me ne faccio Me ne faccio Con piacere Di verità Faccio Bomb 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 Mi è andato I colpi Assalto Mi è andato L'italia Mi prendo Questo Mi è un voluto Assoluto Non c'erano Onestamente I cilini Devo scappare Ma l'allora No Non c'avevo una jump Si Si Aveva una jump Locale Po Così 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 Ti ricordo aereo no no siamo morti ragazzi siamo morti siamo mortissimi cavolo cavolo siamo morti siamo morti siamo morti siamo morti non siamo morti che culo ragazzi che cavalissimo di culo grazie chi è generoso che non distruggere troppo lei non l'ho mai fatto non riuscire a bravi rete ricompensare un giorno prima o poi allora ottene il tuo di legno 50 di vita sono ingoiata con la 6 stavano non avendo questi cavoli del loro non mi sfidare bello non mi sfidiamo insieme tutti e venire veloci carini carucci ho detto noti fermare c'è oppure avvertito sono le persone che cerca di dire attento bro non non te la fare con me non c'è da fare conto di me la l'ho insisto è io con le conseguenze della vita ragazzi no dai devo scrivere questi giorni sto cavolo faccio un pochino più di danno tanto la pelle a prendo no metto in mano questa faccio una cosa del genere 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 cosa ragazzi no non è impossibile ragazzi è impossibile cavolo no sti mostri di scrivo sti mostri di schifo ti potreste ammazzare sti mostri di schifo sti mostri questi cavolo di mostri ragazzi lo sapevo che però non c'è raggi perché stava dentro perché quella era un bot aveva aimbot lo sapevo avere aimbot scritto sulla patente sta scritto anzi sul documento sta scritto segni particolari aimbot no di questo sta scritto sulla sua patente sulla sua carta d'identità ecco ha scritto ha aimbot una volta chiedito le persone hanno aimbot da fa schifo potremmo pure andare a giocare marco 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 vieni il fortnite no e chi sei giacomino non è vero marco è impossibile che il fratello sta giocando con con l'assassino nero no 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No. No. Grazie a tutti. 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 la cosa riuscendo ma non così e che ci vuole così guarda quindi pure con la piattaforma vabbè però sono sentite stavola la tecnica ma è stato lo è stato l'entato ok amici amici no no non sono più forte di lui salvatore e marco figurati a te c'è neanche un soffio c'è lo voglio me lo voglio vedere a parte ma è marco vince apposta è vista quanto faccia e scarso mario ma è fatto ma è il bravo abbandonato se non c'è mario è questo che la rovina giovelo faccio il mio padre che non c'è 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 ok che l'ho è trattato cento dov'è stato a cento non c'è no mario faccio usare ragazzi dov'accio battere la costituzione non c'è E poi vado con le ciglia perché sto fermo. Amai la bambina. La bambina è facile. Eh Mario. Chi hai controllo? Senti. Crea un'altra parte in vita, vieni nella mia isola. Mario. No, Reno, adesso è un cassetto, con i miei mi sfotti sempre. Yau, ma con me non è che ti sfottavi. Cosa l'ho detto se è un pochino più scalso di me? Eh allora, come siete sempre, perché è solo il problema dico, ma hanno capito? Mamma mia. E certo mi dici qualche più forte di me, scusami. E se maisci dici, che dici qualche forte di me, e tu mi dico qualche sento respostivi, mi dico E non sono mai più fasce, e se posso sentire noi. Sì, boh, va bene, ma fai. Dinge,�oneles良, un bel serio, non è mai mai la vita forte 3000. Yeah. mi sono molto più bravo a calcio e usaccio beh mi dava un po si va ancora di più ma il calcio ancora più buono di voi prete canele che non mi piace non no almeno il sociale e mi ha detto attivare o no ma io ti mi dò io c'entrano entro quindi come non vuoi essere più mio amico o meno vabbè è una mani scelta per i miei normali vatti incazzare però ma tu ti arrabbi sempre mi pare di armi un cazzo modesta isola ma non ho capito è la mia come fa tipo non distruggere niente aspetta la mia insala via la mia partita ma se non ti fessi a tutti che troveresti ma perché non fa avviare la partita a mio avvia partito ma non è un po' Allora ora non ve la facciamo un'amichetta perchè potremmo allarmi ah c'è abbia la presa, voglio sistemarmelo un attimo fatto si caricami 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 mario chiaro che armi di merda vuol dire che sto a scarlo nuovo pompa di gol pino l'antra non mi pare c'è un fatto un fatto a scuola è la scuola si parla dei compiti non si fa sempre fortnite ok ma non mi piace quello di postura marco come a tutti quanti 24 ore su 24 questo gioco mi piace che non piace non è fatta e noi piace ma è ma perché a me mi piace ma mi piace quando è il momento giusto mi piace davvero come assicurante ma comunque saluta no per altre cose se uno di dire si ti direbbe a te sei napo se nabu che proveresti va bene ma se io non gli dico niente si trova l'abbia è normale però se io gli dico sono più forte di chi non ti ricordi che detto all'improvviso non ce la farei mai a diventare come noi no ho detto al perché noi siamo partiti altuna che si sono giochi mario a farti capire la cosa io questo ti volevo dire perché si sono giocati prima prima ti ho detto che giocavi dalla quarta vabbè comunque dalla prima no in realtà dalla seconda vabbè dalla seconda vabbè dalla seconda vabbè dalla seconda tu giochi io vabbè dalla prima ma tu addirittura la quarta tu sei messo a giocare però fifa e a salve il mondo giusto si guarda che è un obbligo giocare a battaglia reale è dato che la faccio per divertirmi e noi invece lo facciamo sempre ok e quindi non c'è e perciò non potrai diventare forte come noi solo se noi ci scocciamo perché non trovo più quegli altri da ma ma è solo se noi ci dovessimo scocciare e tu merdi ma a raggiungere uno non lo potrei mai raggiungere perché no fidel che cosa spera di specie non è mario ma inutile rettivanti che tu sei